A Pordenone si è conclusa la riqualificazione di Piazzetta Pescheria. Ora è un elegante spazio pedonale caratterizzato dal grande murale che raffigura gli attori dentro le quinte, a richiamare la vicinanza con il Teatro Verdi. Sindaco, una piazza completamente riqualificata. Era l'impegno che ci eravamo presi, quello di trasformare un brutto parcheggio in una bella piazza. Questo tra l'altro rientra nelle grandi opere di riqualificazione della città che riguardano il centro come il resto dei quartieri. Tra l'altro con opere che partiranno anche in futuro, chiunque sarà simico di Pordenone troverà nel cassetto progetti e finanziamenti per andare avanti con interventi che non saranno più così impattanti ma che miglioreranno ulteriormente la godibilità, la fruibilità e anche la bellezza della città di Pordenone. In questo caso significa averla resa più bella e averla collegata anche al Teatro Verdi che è un po' il cuore pulsante alla cultura di Pordenone. Quindi si è creata un'arena che potrà ospitare nella bella stagione anche le tante iniziative musicali e teatrali che il teatro organizza. Credo che sia un successo per tutta la città. A illustrare i lavori eseguiti è l'assessore ammirante. Innanzitutto abbiamo fatto le fognature, abbiamo sistemato e sostituito l'acquedotto quindi abbiamo lavorato nel sottosuolo ed è stato un lavoro molto lungo anche perché sotto di noi c'è anche una roggia che scorre e quindi anche a profondità è importante, quindi non era un lavoro molto semplice. Dopodiché abbiamo lavorato sulla pavimentazione, abbiamo fatto una piazza e una strada completamente senza barriere architettoniche, completamente riqualificata in modo tale da aumentare gli spazi pedonali, in particolare quelli come la piazzetta e la pescheria si prestano in particolare a realizzare spettacoli, a creare un nuovo luogo di incontro per la città, mentre prima era un parcheggio. Autrice del murale è Marta Lorenzon che spiega così il suo significato. Chiaramente la vicinanza al teatro mi ha da subito suggerito l'immaginario a cui attingere per il tema del soggetto e ho voluto parlare insomma del teatro ma oltre le quinte, oltre la scena. In particolar modo la parete guarda l'entrata del backstage, l'entrata riservata agli artisti e ai tecnici dello spettacolo e niente, mi sembrava interessante parlare di quello.